Ciao ragazzi, 5 dicembre ecco qua mi devo aiutare con la forbice per tirarle fuoco ecco qua, questo qua è un eyeshine lipstick cosa che io qua in Italia non ho visto è il 27 il numero è il 27 vediamo un po' come male non è però mi sembra un po' troppo marrone e a me non mi piacciono i marroni comunque vabbè andiamo avanti ciao ciao a domani